L'Aquila con il fiato sospeso, l'Aquila che spera e che si prepara a vivere con intensità e aspettativa la giornata di domani. A Roma infatti nella sede del Ministero della Cultura ci sarà la cerimonia di premiazione della città vincitrice del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026 con il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano e con la giuria presieduta da Davide Maria Desario. Le città finaliste tra cui l'Aquila hanno presentati i loro dossier in due eduzioni pubbliche che si sono svolte il 4 e il 5 marzo scorso e sono 10. L'Aquila città multiverso è il dossier presentato dal capoluogo di regione, un progetto vero e proprio di sviluppo territoriale che apre anche ad altre aree interne del territorio grazie al supporto degli uffici speciali e che dialoga con il Comune di Rieti che ha sostenuto la candidatura. Alla stesura hanno partecipato i professori Alessandro Cruciata, direttore della candidatura, e il professor Pierluigi Sacco. Il titolo del dossier è stato scelto perché si vuole guardare e far guardare la città con un approccio che sia multidisciplinare e sia in grado appunto di mettere assieme più suggestioni, sensibilità e arti. È la seconda volta che l'Aquila ci prova. La prima volta non andò bene ma si era arrivato comunque in finale. La città della perdonanza però in questi ultimi anni ha proseguito il suo percorso di crescita e diventata più matura. Il progetto, che al di là di come andrà resta patrimonio sul quale lavorare per il futuro, prevede un modello di sviluppo su base culturale che coinvolge tutto il territorio e che interessa molti paesi che compongono l'Italia appenninica che da soli non avrebbero avuto la forza di proporre un progetto così. Ovviamente il patrimonio del primo dossier non è andato disperso, è una base dalla quale si è ripartiti, ma la novità è che questo già scala su una realtà vicina a Rieti appunto, proponendo un modello che è applicabile anche ad altri territori che hanno caratteristiche analoghe dell'Aquila. Le altri dieci finaliste shortlist sono Agnone, Alba, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e l'Unione dei Comuni, Valdichiana, Senese. Lo stesso giornalista aquilano Bruno Vespa lanciò un messaggio forte in occasione della presentazione del dossier spiegando quanto l'Aquila meriti questa chance.